Questa è una storia semplice, di quelle che nascono via via, strada facendo, passo dopo passo. Una di quelle fatte di sole, scarpe consumate, imprevisti, scherzi, abbracci, litigate, tanti chilometri e tanta, tanta amicizia. Insomma, una di quelle storie che, senza troppe pretese, ti viene voglia di raccontare. Grazie a tutti. Eccomi qui, con Natasha e Giacomino in piazza del campo alle 7 del mattino, carichi come De Ciuchini, con il morale alle stelle per questa nuova avventura che stiamo iniziando. Siamo sulla Francigena, finalmente. Ci siamo, ci siamo. Adesso ci tocca il primo punto tappa, lo sai? Sì, timbro. Timbro, eccolo qua. Lo vedi? Timbro perfetto. Si parte da Siena con l'intento di percorrere in 7 giorni circa 170 chilometri, fino a raggiungere Viterbo, percorrendo così il tratto della via Francigena che non eravamo riusciti a percorrere l'anno scorso. Almeno questo è il piano. Ma si sa, quando il destino si sveglia col culo di traverso e gli gira una bestia, c'è una sola cosa che tu può fare. Sperare che la giornata gli migliori e che di riflesso migliori anche a te. Ma le cose per noi, ovviamente, non andranno così. Remma Maiala si è bella e sbagliata. Dove siamo andati? Siamo andati a diritto. Dove? Là. E invece bisognava andare? Di là, ma non è segnalato. Vai. Cazzo, hai mettetelo un cazzo di cartello? Giaomino, i cartelli di là. Non è segnalato bene, te l'ho detto. Tre. No, poi io. Un'altra. Ma pure per me. Giale. Per i primi cinque chilometri, l'asfalto è stato il nostro migliore amico. Benissimo, il mio ginocchio ringrazia. Guarda che è bello, Giaomino, guarda che è bello, guarda che è bello! Cazzo, va bene. Via Francigena! Ragazzi, avete preso tutto? Io ho scordato la tazza. Per il caffè? No, cazzo, si è portato anche il termos. Infatti. Te, Giaomi? Ma io ora mi viene in mente perché non ho cariato l'acqua. Non l'ho cariato. Come una cariato l'acqua? No, la flebo ce l'ho vuota, niente. Abbiamo percorso sette chilometri e la nostra app ci dice che ce ne manca ancora ventuno. Giaomi, non si arriva più oggi, non si arriva più! Sono gioie. Gioie della vita. Se erano 22, era meglio. Eh? Tante. Tutto bellissimo, bel panorama, bella compagnia e aspettiamo di vedere come va. Signora, non siamo normali. Siete simpaticissimi? No, va da siena, Mirko! Oh, guarda! Sì! Voglio fare una palla di neve! Ma va la discesa, Gioomino? La discesa non per cazzo. E' in questo momento che si manifestano le prime avvisaglie. Intuisco che Gioomino ha qualcosa che non va, ma essendo costui strafatto d'entusiasmo e un po' vittima del suo orgoglio, fa finta di nulla e tira dritto come un treno. E così si prosegue, giù per queste meravigliose campagne. Ci accorgiamo di avere un po' vittima di neve. Aver raggiunto di nuovo la civiltà, quando ci imbattiamo in quelli che qualcuno definirebbe i tipici segnali della colonizzazione moderna a discapito della natura. O il troiaio, come diciamo noi. Il nostro spirito cazzarone, come la voglia di camminare, non ci abbandona mai. E l'istinto di farci gli scherzi è sempre in agguato. Dai, scemo! E gli avevo tirato la crema da sole nell'occhio, è sbaglio. Cioè, sono completamente cieco, però va bene. Soppo è cieco. Mi vuoi ancora? Abbiamo raggiunto la zona industriale di Isola d'Arbia. Sono circa le dieci e mezzo del mattino e il sole già sta picchiando bello forte. E quindi non approfitto per tesare il mio nuovo cappello, questo Bora Bora della Columbia. Sapevo che saremmo andati incontro a delle temperature alte, soprattutto un sole molto forte. Vedo la scritta di un bar. C'è un bar, tavola calda. Voglio un panino al prosciutto. Panino al prosciutto. E ovviamente, arrivati qua in paese, abbiamo scoperto che i bar sono tutti chiusi. Anche la trattoria di Pellegrini. E' solo lavorato. Però per fortuna c'è un panificio, quindi il panino al prosciutto si può fare. E poi, nel prossimo paesino, se siamo fortunati, troveremo anche il bar per il caffè. Ma del resto, ragazzi, si sa. Un cammino senza difficoltà sarebbe un cammino. Serebbe un giro in centro, quindi va bene così. Nell'attesa del nostro turno, Nat e Giacomino ne approfittano per socializzare con i locali, che si ribellano gentili e chiacchieroni. Questo è uno dei lati che mi piace di più del cammino. Incontrare persone, scambiare opinioni, godersi il puro e semplice rapporto umano. Molto più di quanto ce lo godiamo nella vita di tutti i giorni. Del resto, il cammino ci insegna sempre a godere delle piccole cose. Come questo panino al prosciutto, per esempio. Che si scioglie in bocca e mi rende felice come la mattina del 25 dicembre. Quando da bambino correvo in salotto e sotto l'albero trovavo il regalo di Babbo Natale. La francigena, come tutti i cammini, è così. Ti toglie tutte le zone di comodità e le sostituisce con vagonate di esperienze ed emozioni. Giacomino ha bisogno di una farmacia, una tascia dell'acqua ed io di un caffè. Così lasciamo la francigena ufficiale per qualche chilometro e tiriamo dritti per i paesini che troviamo davanti a noi sulla via Cassia. Stavo pensando che solo durante un cammino sopporta così bene il caldo, stare sotto il sole a luna del giorno. A cose normali è un patimento. Puoi sciorciare. Sì, anzi. Sì, quasi si gode. E quando il caldo diventa insopportabile, giunge il momento di tirar fuori le armi pesanti. Lo so, molte persone mi prenderanno per il culo, per questo ombrello. Le soddette persone evidentemente non hanno mai provato a camminare nell'insugherata ad agosto con 38 gradi. Chi ha provato l'insugherata ad agosto con 38 gradi mi può capire. E comunque è un ombrello antisolo, tanto per la cronoma. Che spettacolo. Mentre Giammino è andato a occupare il tavolo picnic nel parco che abbiamo appena passato, io e la Nat andiamo a cercare il primo bar aperto. Forse. Forse. Grazie, signora. Tra l'altro, Montaroni? Monteroni d'Arbia. Monteroni d'Arbia. Darbia. Non ce la posso fare. Monteroni d'Arbia è veramente bellino. Io ci venivo qualche annetto fa a trovare un'amica. Simpatica. Simpatica. Un paesino, un borgo medievale, molto 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 carino da visitare. Ora spero che dopo riusciamo a passare dal centro. C'è un bar aperto. Ho mirato? È vero? Andiamo. Natascia, stai bene con noi? Sei felice? Mi stai on? Ma un po' più bello. Che si fa? Si riparte? Ma... Io direi di sì. Sveglio Giammino? Sveglio Giammino? Con il saluto del clan, eh? Vai, vai. No, no, no. Ci penso io. Ci penso io. Scusate. E' l'ora di ripartire. Tu già? Ci penso io. Abbiamo trovato il timbro Molto carino questo signore Guarda, quando le persone si comportano di Ti viene voglia di dire due parole su di loro Qui non è proprio di qui che passa la francicina Ma fermatevi a prendere il caffè Tra le altre cose abbiamo scoperto che di qui Anche se non passa ufficialmente la francicina Almeno dal centro di questo paese Però ci passa il cammino d'assisi francesi Sì, infatti ci sono anche spesso molti francesi Che si chiama? Le Chamines de... De... San François San François Monteroni di Narnia Di Narnia Devo dire che la segnaletica per la via francigena È stata veramente migliorata in una maniera incredibile Anche su questo tratto che ufficialmente non è via francigena Ci sono tantissimi segnali E tutta la segnaletica ho visto che è stata completamente rinnovata Anche i piccoli cippi sono stati riverniciati Complimenti perché hanno fatto un grandissimo lavoro Sicuramente anche complice il fatto che siamo nel ventennale Delle vie francigeni europee Quindi quest'anno c'è questa grande celebrazione Infatti in questo momento dietro di noi di qualche tappa C'è la Road to Rome Questo grande evento a staffetta Organizzato appunto dalla via francigena ufficiale Via francigena d'Europa Anzi, ciao Eleonora Un abbraccione Speriamo di incontrarci di persona Quando il clan capisce le direzioni da prendere Allora, facciamo l'elenco L'asfalto? C'è Ok, la salita? C'è C'è La penitenza? C'è La strada sbieca? C'è anche quella Il sole a picco? C'è, 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 giusto Il giramento di Oglioni? Quello no, non ci può essere Giammino Siamo sulla francigena, dai No, non siamo sulla francigena Accidenta a te Quasi Mi garberebbe essere sulla francigena Dietro la curva, dai, si ripiega la francigena Davanti a noi Stiamo vicini Vabbè, ti ho fatto un po' di scorciatoia Ma scorciatoia del cazzo? Ti lamenti? Caro Giammino E' inutile che ti arrabbi Perché si è fatta una strada diversa Con l'asfalto Perché anche di là Sono andato a vedere con i miei occhi E c'era l'asfalto Ed è inutile quando tu ti incazzi Tu pigli e tu guardi E tu lasci la gente da sola Perché Se tu fai la francigena di merda Però di là continuava a esserci l'asfalto Capito? E quindi C'è Infatti Io ti lascio da sola Non c'è problemi O lasciami indietro Non c'è problemi La smetti di lasciare arrabbiato Ma chi è? Smettila Ma io veramente Guarda Ammettilo Ho bevuto Ho bevuto Una sorzata d'acqua gassata Sì Ora diamo la colpa all'acqua gassata No Sono la persona più felice del mondo Sì 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 Smetti di essere arrabbiato Tanto anche di là c'era l'asfalto Sono andato a vedere Mettilo ferme A giro ombrello Vieni A giro ombrello E quando uno si ama Anche nel momento del bisogno Quando si ama C'era anche Ora Tu sei proprio una bella tunisina Oddio Ci guardano anche i bambini però E il mio figliolo soprattutto Non fatelo a casa Sono in campagna Dove stai niente? Era qui Non ci credo Ma che cazzo fai? Il girasole è triste È completamente andato Abbiamo perso Il sole Fa dei brutti effetti A girasoli E anche alle persone Soprattutto alle persone Essere amici per me Vuol dire anche questo Capire quando è il momento Di prendersi cura dell'altro E all'occorrenza Qualche volta Fargli anche da Pungible Se necessario Anche perché Per quanto ci si possa scannare Io e Giacomino Si rimane comunque Due fratelli Anche se di mamme diverse Chi lo sai che non ci passa il treno? Cioè? Chi non ci passa il treno Laura È possibile Io Devo dire che Ho rifatto lo stesso errore Di sempre Cioè Si è trovato un sacco di fontane E non ho mai riempito La sacca E allora Mi dico che sono Puu Puu Come Lino Banfi Mi sputo Ha sempre riempita Sta cazzo di sacca Perché ci si ritrova In un attimo Veramente Veramente Nella cacca Come ora Infatti si vede dalle labbra E non vedo l'ora Di trovare Una sorgente d'acqua Qualsiasi cosa sia Se ne ho trovate tante Io non mi sono Fermato E mi maledico Perché ora è caldo Solo su un cammino A 2000 gradi Si apprezza il valore Di una nuvola Cioè Si apprezza veramente Qua tu sei felice Per una cacchio di nuvola Ma super felice Rimani lì Rimani lì Grazie nuvola Giacomo sta andando A sentire in quella casa Se ci danno un po' d'acqua Perché siamo entrambi Rimasti senza acqua Non manca tantissimo All'arrivo Però con questo caldo Camminare senza acqua È Come fa Descrivervelo È impossibile Te lo ricordi Un orgasmo Te lo ricordi Fa sì con la testa Lui intanto Ecco uguale Forse è anche meglio Ti hanno dato l'acqua L'acqua Ho fatto la luce Ho fatto tutto Sono stati gentili? Gentilissimi La luce If I simply wanna trace you Carmiro Ah È S видите pluck Ma èっち e ragazzi mi sa che sei sbagliato strada siamo finiti in tibet ciao cucciolo anche a te te lo diceva giovine siamo a narnia non vedi che animali c'è quando uno è dislessico cosa ci legge viva le comune da c'è anche un pellegrino trova l'intruso le ore di cammino sono state tante ma finalmente raggiungiamo la nostra meta e appena entriamo in paese veniamo accolti da questi paesani particolarmente gioviali ma come parla strada queste farò mi fa la spolverata c'è la farmacia ma è tutto bellino ma perché giovino se io ti parto con un argomento che tu cambi argomento tutta la miseria ma sto facendo registrazione vuol dire che voglio parlare di la ossa lì e tu cambi argomento ora qui ok tanta pazienza quanta pazienza qui c'è bar e farmacia birra e farmacia io vado ai bar giocammino alla farmacia ma domina è bella la pausa bar e lì c'è anche la fontana dove domattina si carica l'acqua è bello ora praticamente si passa al ponte e si arriva nel nostro castello di narnia dove si dorme ero lì bello 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 giovino pari al fiume dove buttarsi qui non manca ponte darbia non lo imparerò mai scusate cittadini darbia continuerò a chiamarlo narnia non me ne vogliate oltrepassato lo storico ponte raggiungiamo quello che un tempo fu il mulino ad acqua del borgo dove adesso si trova il martelli affitta camere che ci ospiterà questa notte veniamo accolti da sergio un personaggio eccentrico e molto divertente ciao sergio tanti auguri la gente da queste parti spettacolare ma senti o è io sono sempre l'antica sì che farei voi l'altro giorno mi hanno fatto un attirato sul cuoreo sport dopo una meritata doccia finalmente si va a mangiare con noi viene anche odri una ragazza francese conosciuta al bnb che sta percorrendo la via francigena in solitaria la tappa più dura e fatto finora penso sia la seconda quindi da san giminano a monta regione perché c'era per me c'era la più lunga dall'inizio con i 29 chilometri però c'era il tempo che ti abitui a tutto quello lo zaino che pesa tanto era un po difficile alla fine adesso odri assaggia per la prima volta il cacio e pepe i pisci il cacio e pepe vai odri posso cortare certo certo tornatene in francia fa queste cose amore la sua come la scena è buona e grazie al menù per pellegrini proposto dal ristorante il ponte anche a buon prezzo e adesso dopo esserci rimpinzate come dei porcellini finalmente si va a dormire o almeno ci si prova certo però e non succede mai niente cioè siamo sempre io e te te io te io io e te che noia che barba ah io però te lo dio eh io non ce la fò più eh spengo eh prima notte non c'è che dire completamente in bianco nonostante chi abbia preso anche le pasticche per dormire e questa la dice lui come si fa a passare otto notti così senza dormire perché c'è qualcuno che russa e tra l'altro quello che va a letto prima di tutti si addormenta anche prima di tutti ci vuole tanto spirito di adattamento lungo un cammino tanto 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 e soprattutto delle pasticche per dormire molto più potenti delle mie cosa bella che qui c'è il fiume ed è molto zen stare qua con il caffè è anche fresco e quindi al fine è bello cominciare il giorno così il nuovo giorno è iniziato presto e in modo strano molto diverso da quello che mi immaginavo siamo partiti in tre e ora ci ritroviamo in due giacomo durante la notte si è sentito male e ovviamente non ha detto niente ma lui è così non chiede mai aiuto ha sempre paura di passare male o di disturbare noi intanto proseguiamo per la tappa che oggi ci porterà a san quirico dopo circa 26 chilometri di cammino sui colli della val d'orcia stamattina sono triste sinceramente l'idea di ritrovarsi in due non era proprio calcolata stamattina sento molto di più il peso dello zaino sulle spalle non sarà il malumore si trasforma in peso? che dici? guardarsi buongiorno se si vede dal mattino è proprio un pisello sul comodino grazie a tutti sto cosi Dopo pochi chilometri dalla partenza raggiungiamo uno dei borghi più belli della Val d'Orcia Buon Convento Entrare dentro questo antico borgo mi fa sentire un po' come uno dei cavalieri della tavola rotonda Profuma di medioevo di corse ciclistiche rievocative e di buon vino Percorrendo la via centrale non posso fare a meno di essere rapito da questa bellezza d'altri tempi e ripenso al suo antico nome latino Bonus Conventus che significava luogo felice fortunato Ora ho capito perché quando usci con quella tipa di Monteroni la porta qui la sera diventò tutta fofiamme vabbè questa è un'altra storia meglio sorvolare andiamo avanti e all'ottavo chilometro del nostro cammino della nostra tappa di oggi si percorre per un breve tratto la Cassia un pezzo dell'antica Cassia e adesso mi fa sentire un po' a casa considerato che dove vivo io a Pistoia la strada di casa mia era un tempo la Cassia quindi io tecnicamente vivo sulla Cassia quindi quando sono sulla Cassia mi sento a Cassia lo so è bruttissima ma questa cazzata mi fa tremendamente ridere e stamattina c'è bisogno un po' di ridere perché l'umore è veramente molto giù e tra l'altro ho dovuto caricare anche alcune cose che portava Giaomino nel suo zaino e avendo fatto rifornimento d'acqua stamani lo zaino supera gli 11 kg di peso ed sono veramente veramente tanti per queste povere spalle a terra pure la fatica fisica in più oggi oggi la penitenza considerato che ho fatto la notte in bianco senza aver potuto dormire perché quello che russava e non mi faceva dormire quelle poi volte io mi appisolavo mi dava i calci e mi svegliava per dirmi che io russavo in sostanza mi ha dato quattro volte i calci e ho dormito quattro minuti qualcosa del genere però è uguale non non mi lamento anzi sono solo dispiaciuto perché mi manca Giaomino e basta Giaomino ti prego non te reandare come diranno antipatri quelle due sono passate ora le due pellegrine dici ma vedi c'è una cosa che ho capito sui cammini non tutti quelli che fanno i cammini hanno lo spirito del cammino che vuol dire condivisione socializzare anche soltanto scambiarsi un ciao con un sorriso con chi come te sta facendo quel cammino e perché ti devi andare a confondere con le persone negative hai perfettamente ragione quindi vado in panorama ma infatti come si fa a essere sai che mi verrebbe da dire godi maiala amen poi la bagaccia eh Natascia sono appena passate le 10 del mattino il sole picchia già bello forte e la terra sotto i piedi inizia a ribollire e lo confesso sono questi i momenti in cui mi chiedo perché lo sto facendo perché continuo ad andare sempre avanti ma poi mi basta guardarmi dintorno e lì in pochi secondi trovo la risposta che giornata stranissima una giornata veramente molto molto strana una contraddizione di emozioni di sensazioni di reazioni al tipo di cammino chissà il cammino cosa ci vuole dire oggi cosa ci vuole insegnare l'unica cosa ci rimane da fare è continuare ad andare avanti e scoprirlo e scoprirlo grazie grazie che carina si è fermata a fare i lavori stava facendo un mega polverone ci ha visto arrivare e ha smesso grandi a volte si trovano delle persone che sono così gratuitamente squisite ed è bellissimo ho già detto che quest'oggi il panorama è wow un fottutissimo però il caldo ci sta massacrando metro dopo metro ci risucchia tutta la linfa acquifera che c'è dentro il nostro corpo ci sta prosciugando il che a me va anche bene perché magari perdo qualche tiro però è dura è dura è dura è una grande sfida è una grande sfida solo per questo si meriterebbe il pollice in su come se non bastasse qualcosa mi ha morso la caviglia destra mentre passavo accanto al cactus e mi fa adesso un male cane ma ho sentito proprio un mozzico cioè ho una puntura tipo un'ape qualcosa oggi non ci lasciano stare le gambe però cari miei gufi a noi ci dovete abbattere con le cannonate perché si va sempre avanti non ci si ferma ma è in magata zoppi ma si va avanti ma zoppi andiamo andiamo oh oh è iniziato l'asfalto oggi voglio prendere l'asfalto come un regalo del cammino un regalo positivo non ho la minima idea di quale sia ma è uguale non gliela do vinta non c'è vero non mi metto vai a imprecare perché luna ti arrivi in cima ai colli e pam e ci hanno messo l'asfalto godo anche dell'asfalto guarda un po' guardo le vigne ma dai belle ci dà in tà loro intanto alle mie spalle vedete oltre a una jip anche le due pellegrine antipatie di stamattina stanno sempre a testa bassa giù guardano per terra ma guardati intorno c'è 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 colline montalcino io non lo so riesco a apprezzarlo nonostante stia perdendo più liquidi di quanti ne ho è vero però c'è anche da dire una cosa ognuno ha il diritto di fare il cammino come gli pare ci mancherebbe altro poi perché se sul cammino ti comporti da stronzo problema tuo lo posso pensare lo posso dire però ognuno ha il diritto di fare come gli pare ok ognuno ha la sua filosofia esatto la loro non si sposa con la nostra esatto fondamentalmente questo però come si dice nel clan sti grancazzi brava di sera marchesa l'ultima volta che ho provato questa sensazione sulla pelle mi trovavo nel deserto del Sahara i colori di questi colli bruciati dal sole un po' me lo ricordano non ho idea di quanti gradi ci siano in questo momento sento il calore della strada attraversare le scarpe e bruciarmi le piante dei piedi la testa gira ed è sul limite per cedere ma all'improvviso madre natura fa la sua magia quasi come se mi avesse sentito ed eccolo atteso come un miracolo il vento dopo 20 chilometri di penitenze finalmente siamo alle porte di torrenieri non mi sembra vero e all'ingresso del paese troviamo anche una sorpresa ad attenderci passiamo di qua mi è sembrato di vedere un giacomo ero qui per caglio ho detto va secondo me arriva Mirko tutto bene? la ragazza che ho accompagnato in macchina ti ha lasciato questo per la puntura lei non ce la faceva più perché si è fatta male ha avuto una storta a un piede deve essere il periodo oggi è la giornata delle gambe delle sfighe e mi ha detto guarda dagli questo che carino sentite come stai? di merda però si va avanti e si deve vabbè adesso ciao ciao c'è di peggio no comment ti vuoi commentare ortopedia? è davanti tutto dritto giacomo ricorda niente succede per caso scusa perché noi dobbiamo sempre cercare il lato negativo esatto senti ciao mi fa una bella cosa andiamo in un bel ristorante si fa una grande mangiata e si saluta mamma francicera ma con la pancia piena eh io rimango dall'idea che è sbagliata però perché cioè lo apprezzo sotto il punto di vista dell'amicizia e questo è la cosa che mi mi fa mi fa piacere però mi dispiace perché mi rovino anche a voi l'avventura personalmente a me non tu mi rovini nulla io te l'ho detto prima posso perché siete due persone per bene altruiste ma perché quindi nel testamento ricorda no 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 in realtà è prettamente egoismo e te lo ripeto posso tranquillamente farla senza di te ma non voglio farla senza di te questo è egoismo puro quindi basta oh sì tranquilli sereni l'importante tu stia bene te e così a malincuore abbandoniamo la nostra avventura sulla via francigena ma sapete cosa questa non è certo una sconfitta anzi è la riprova che a volte il bene comune è più importante della singola persona e se questo vuol dire sacrificare per un amico questo viaggio anche se è l'unico che avrei potuto fare quest'anno beh sapete che vi dico lo rifarei altre mille volte e poi se guardiamo il lato positivo ho un'altra scusa per tornare a sfondarmi i piedi su di lei ed essere così di nuovo con un amico sulla via francigena e quindi Baby, I thought it wrong Yeah Never loved you At least I thought I did Once Maybe I'm full of shit Yeah And you're the one I need tonight To make it through Sorry that I used you too You're the one I need tonight 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 You're the one I need tonight